c'è un team con noi aspettarsi andiamo lupi no 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 andiamo sotto ce lo fate? c'è un team sotto con noi buona fortuna buona fortuna veramente no andiamo a fuoco non si sa pugni non ha caro pugni beh nice arma arriva vedi canto roccato vedi canto roccato oddio allora manda l'ultimo da me da me da me vai no che si conta red 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 non ci credo va qua cazzotti è qua è qua è l'assuan oh le god non abbiamo niente siamo messi un guaiate andiamo via prendiamo il ballone andiamo che mo ci buscino quelli là sopra importante dopo i cazzotti siamo vivi proviamo a luto eh qua pure l'ultra proviamo a monta qua lì vedo delle casse libera vado a vedere un attimo qua qua non è l'ultra andiamo qua eh vi raggiungo raga prendo delle casse non ci credo che non ci stanno ah ecco andiamo a fare il party al volto eh ma come facciamo ci ho messo inguagliatissime prova l'ultra qua io hai trovato silinga marty no ok te ne lascio una è l'ultima che ho quindi o proviamo a fai dare un team ragà o ce ne andiamo stanno là eh io ho l'avo che leva 8 potenziato che fuori l'amo fa proviamo non mi sento compilato in questo fight sincera non lo trusto no nemmeno io ma proprio non mi sento compilato non ho armi per eh lo andiamo non mi ispira proprio si lo andiamo qui non è l'ultra arriviamo col palloncino tutto al loot qua marty vuole carabina volentieri ti tolavo se lo vuoi ce l'ho ce l'ho i colpi se vuoi qua è R99 raga prendete tutti i colpi se lo lasciate eh allora prendo la carabina io qui ci sono munizioni leggere marci i colpi leggere raga trovate il mio merino per il cecchino cioè pingatemelo quando lo trovate colpi ma raga ma dobbiamo provare a fight down così non possiamo andare mi sa che stanno qui alcuni ah perchè vedo delle tracce posso vedere delle tracce allora si anche perché sono recenti i turiat quelle che vedi tu si e allora si veniamo per ferite oh gente portali fuori portali fuori tranquilli tranquilli ci sono c'è la wingman è ciecato con la wingman questa ha messato tutto? si ha messato tutto questo c'è l'armatura bianca mi sa si bianca no c'è la oro che c***o dico io ho fatto 60 non c'è c***o 14 ma c'è i cecchini ma fai da non dico più ho capito e loro ora sono che non abbiamo per l'armatura bianca vai ho fatto malissimo a uno mi curo ho fatto 70 a una bungalore aspettiamo che si fight ancora ma che è un altro team ancora questo che ha sparato non capisco ma neanche io l'ho fatto questi squagliano abbiamo l'armatura bianca uno lì dietro ma lì dietro ma mi ha bloccato no non possiamo non possiamo non possiamo proprio inutile ho fatto pure le siringa vieni qua te ne do due faccio una pausa devo darmi un assiste qui c'è una siringa mi sto curando mi stanno spaccando la sto ricaricando gli scudi ma c'è gente pure qui lì ho il cecchino lo rianimo lo rianimo lo rianimo tengo la porta mi f***i quante nate raga saliamo saliamo raga saliamo raga mi stanno fatta male ora Watson saliamo qua dentro ecco lì la guarda come giocano ma hanno camperati come non so cosa mi hanno messo questo no mi hanno fatto si prendono le top così ti prego Mastiff Mastiff a posto eh ma non puoi entrare il problema è quello vabbè aspettiamo si si ma queste c***e di armor bianche ci blocca beh hanno pure milioni di drappole là dentro ma che c***o che è quella roba vabbè finchè stiamo qua che stiamo in safe ma è una roba viola quella cosa una corazza vado a vederla vado a vederla io che ho il poso vai vai faccio il portale al massimo che dici no 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 inutile ti smocco vai 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 un po' è una corazza viola raga buono 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 abbiamo cinque squadre gli altri e gli altri erano ancora nel tunnel gu ok ho trovato 82 e corda corda scrabba quello non capire una cosa delle volte sono io sparo ho sentito una zip linea anche io no so fianco stanno a fianco il singolo c'è uno qui sopra ha visto qui sopra nel palazzo a fianco sicuro era una fretta ma ecco la vedo sono ora 90 ora ho fatto l'ho crancato io pure l'altro guardate la mia vita ragazzi chiudiamo sotto hanno pure l'elevato devo pullare raga non ho pure medica solo una seringa io due ne posso dare due pure io prendete stanno lì guarda 12 tutti qua siamo ragazzi tutti qua siamo non picchiamo più non spieghiamo più colpi io posso darci le scude e basta arrivano la sopra di ulto di ulto gol d'uno altri prea che p***o craccati vado sotto vado sotto vado a restare io marty vai io copro da qua pusha 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 scendo giù un po' eccolo in solo è qui in solo bravi bravi scura ma da sopra dire una cella un'altra forse sono entrato da te guappo morto morto chilla c'è solo affline io bravi Bravissima, ma ti falli fai dare? Vedi se c'è il massif, ma... Ah no, niente, niente, qualcuno... Sto a salire? Non farmi sparando Mamma mia, let's go! Sono tre giorni che ci gioco Mamma mia Gchat Mamma mia